L'eterno conflitto tra le grandi religioni monoteiste, ebraismo, cristianesimo e islam, parte integrante della parabola dell'anello dall'opera di Lessing, la cui trama richiama per molti versi la novella dei tre anelli del Decamerone di Boccaccio, diventa spunto per Ring Parabella Opera per musica, danza e teatro, composta e ispirata da Gloria Bruni. In scena al Teatro Berlini di Napoli per l'orchestrazione di Lauro Ferrarini e la regia di Aurelio Gatti, l'opera esprime la potente attualità del messaggio, come confermato dall'autrice. All'epoca di Giovanni Boccaccio, 1300, erano già i problemi con le tre religioni monoteistiche, come purtroppo anche fino adesso. Allora è una cosa così attuale. Nella mia sinfonia non dico neanche con un nome una delle tre religioni, perché pensavo che ci sono anche il buddismo e anche tutte queste altre religioni, allora è aperto per tutto. Gatti ha voluto ambientare la scena con sapiente equilibrio in una fonderia, in un tempo sospeso, in cui il passato di intolleranza, paura dello straniero e xenofobia ammonisce il presente evidente a tutti, ma è il futuro che esige una luce diversa. L'urgenza di fare che questo teatro, questa lirica, non fosse sempre un qualche cosa di contestuale alla cronaca, ma contestuale all'uomo, ci ha portato a dire con Bruni, cerchiamo di affrontare non di petto, ma con una lirica un problema antico, arcaico. L'opera nasce come una sinfonia dalla sapiente esperienza di Gloria Bruni, ma poi si evolve e prova a continuare il suo divenire, come conferma Ferrarini. Dal punto di vista musicale era nata come una sinfonia. Poi abbiamo pensato invece che era più interessante mettere dei testi, mettere delle parole, mettere delle cose che ci piacciono, dare un motivo a questa cosa. Quindi ci sono anche delle parti cantate abbastanza importanti. Poi con l'aggiunta di questa coreografia nuova di Aurelio Gatti stiamo raggiungendo una dimensione nuova.